No, stasera no. L'amore me l'avevi promesso. Ti sentono persino i vicini. Dal magnete del benessere, finalmente la soluzione. Snappi. Snappi il salvasonno. Sì, salvasonno. Vostro, di chi vi è vicino e, perché no, anche dei vicini. Un'autentica innovazione per rendere il vostro sonno profondo e ristoratore e per far sì che anche chi, fino ad oggi, ha cercato di dormire con voi possa finalmente riposarsi insieme a voi. Snappi è una clip nasale realizzata in morbidissimo lattice di gomma e contiene al suo interno due micromagneti ad elevata potenza. I minuscoli ma potenti magneti di Snappi il salvasonno contribuiscono efficacemente all'incremento della circolazione e aprono le vie aeree consentendo una migliore respirazione. Quindi a voi, prima di andare a dormire, basterà fare un semplice gesto, posizionare Snappi il salvasonno all'interno delle narici. Un gesto semplice e veloce, ma estremamente efficace, perché il problema del russare sarà solo più un ricordo. Quel problema che magari da anni disturba voi e soprattutto chi dorme con voi e che ha reso infernali molte delle vostre notti e ha reso di conseguenza spenti molti dei vostri giorni. Quel problema che ha creato degli attriti con il vostro compagno o la vostra compagna, perché non ne poteva più di sentirvi russare. Ma adesso basta un piccolo gesto per un grande sollievo. Russare? Fai in modo che sia solo più un brutto ricordo. Pensa al tuo compagno o alla tua compagna. Pensa ai vicini, pensa a te stesso e chiama adesso. Quindi regala e regalati delle notti 100% riposo con Snappi il salvasonno. Soli 49 euro e sarà vostra la clipe nasale studiata per combattere efficacemente il problema del russare. Inoltre Snappi è riutilizzabile all'infinito, perché la sua azione non si esaurisce mai. Quindi soli 49 euro per infinite notti di riposo e giornate in piena forma. Snappi il salvasonno, un piccolo gesto per un grande sollievo. Chiama adesso! Non ce la facevo più. Ogni sera prima di andare a dormire sapevo già quello che mi aspettava. Prendevo sonno e poi venivo svegliata dal russare di mio marito. Che incubo! Invece con Snappi andare a letto è diventato un piacevole sogno. E al lavoro adesso. Sono decisamente al top. Soli 49 euro e sarà vostra la clipe nasale studiata per combattere efficacemente il problema del russare. Quindi soli 49 euro per infinite notti di riposo e giornate in piena forma. Snappi il salvasonno, un piccolo gesto per un grande sollievo. Chiama adesso!